Salve a tutti, The Magazine Post oggi ha l'onore di incontrare il dottor Roberto Sgalla, direttore del servizio della Polizia Stradale Italiana. Dottor Sgalla buongiorno e grazie di essere qui con noi. Noi abbiamo avuto la possibilità di incontrarla qualche tempo fa in cui lei ricopriva un ruolo altrettanto importante in qualità di direttore della comunicazione della Polizia di Stato. Oggi ricopre un ruolo che ha sicuramente delle caratteristiche forse più operative nel senso proprio del termine. Sarebbe interessante, visto che The Magazine Post è un luogo in cui trattare i temi del management è sempre sicuramente una priorità, quali competenze ha potuto capitalizzare in questo passaggio rispetto all'incarico che ricopriva prima? Direi che è stato un elemento di continuità. La stradale, la sicurezza stradale ha bisogno di vari interventi. Noi operiamo su due versanti fondamentali, che è quello della prevenzione di carattere generale, fornita dalle nostre pattuglie che sono sulla strada e poi dalla repressione, cioè dai contesti e dalle infrazioni che vengono accertate. Io credo che a questo ho aggiunto un elemento ulteriore che era ed è anche ormai patrimonio della Polizia di Stato, che è appunto quella della informazione e della comunicazione. I cittadini e gli utenti hanno bisogno di moltissima informazione girando per le strade. Non per niente, io sono anche il vice direttore del CIS. Abbiamo puntato molto a ristrutturare questo servizio insieme al Ministero dei Trasporti, a renderlo più celere, a dare informazioni più coerenti anche con le situazioni reali. La stradale poi ha al suo interno un centro nazionale per la viabilità, che gestisce i momenti di criticità. Quest'anno si è riunita tantissime volte durante le precipitazioni nevose. Praticamente siederà quasi stabilmente durante l'esodo estivo. È evidente che lì la comunicazione, in queste occasioni, l'informazione al cittadino diventa uno strumento fondamentale per poter viaggiare in sicurezza, affrontare anche i disagi con altrettanta serenità. E poi la stradale, la sicurezza stradale, ha bisogno di informazione e comunicazione per convincere l'utente, per farlo diventare un proprio alleato per rispetto delle regole. Io sono convinto che questo rapporto, questa alleanza tra cittadino e forze di polizia, polizia stradale, sistema che garantisce la sicurezza stradale, ha come base la comunicazione e l'informazione. Certo, poi c'è la prevenzione, si dice che anche le stesse contravvenzioni possono essere educative e forse lo sono, ma io sono convintissimo e la mia esperienza, il mio know-how di comunicatori mi fa dire che sicuramente, parafrasando una famosissima frase di un psicologo che dice che la comunicazione cambia i comportamenti, io auspico che veramente questa frase possa essere un bel seller della nostra attività. La comunicazione cambia i comportamenti, li rende più virtuosi nell'interesse dello stesso cittadino, ma nell'interesse della sicurezza stradale nel suo insieme. I comportamenti e l'economia, perché il dato che emerge negli ultimi anni è che molte volte la comunicazione riesce a cambiare anche gli economici sottostanti. Ma certo, guardi, le porto un esempio. Rispettare i limiti di velocità non solo garantisce sicuramente un abbassamento degli incidenti, un abbassamento dei morti e devo dire che l'Italia ha avviato un circuito virtuoso, nel 2007 abbiamo avuto meno 9%, nel 2008 sicuramente supereremo questo dato. L'auspicio è veramente di arrivare a quello che l'Europa ci chiede di meno del 50% dei morti. Ma dicevo, rispettare i limiti di velocità quindi non solo garantisce meno incidenti e meno morti, ma garantisce meno emissioni e quindi un'area più pulita, meno consumi e quindi sicuramente un problema economico. Addirittura si è calcolato che rispettare la velocità non vuole dire impiegare più tempo, perché regolarizzando la velocità ci si è resi conto che i tempi di percorrenza alla fine sono gli stessi, se non addirittura inferiori. Quindi ecco questa dimostrazione che in questo caso la velocità ha un solo un valore umano, di partecipazione, di senso civico, ma anche un valore economico. Ecco, lei parlava di rispetto delle regole. Tutti abbiamo notato negli italiani sul tema della sicurezza stradale, diciamo sicuramente un processo culturale in atto e importante, e ormai sensibile. Sarebbe interessante capire da addetto ai lavori quale ruolo a suo giudizio hanno avuto le tecnologie, le nuove tecnologie in questo processo culturale in atto? Senza essere né ottimisti né pessimisti, ma estremamente realisti, io concordo, condivido, in questi primi otto mesi mi sono reso conto che c'è un processo culturale in atto, stanno cambiando anche alcuni comportamenti, un dato per tutti, sono diminuite le infrazioni per eccesso di velocità in autostrada. Uno potrebbe pensare che con l'aumento dei controlli e con l'uso di tecnologie dovrebbero esponenzialmente aumentare le contravenzioni, invece si sono abbassate dell'1%, ancora poco, ma sicuramente significativo rispetto a un cambio culturale. Le tecnologie, specialmente le tecnologie appunto a controllo remoto, prenderei il tutor come, oserei dire, simbolo di tutte le tecnologie, anche rispetto agli autovelo, agli etilometri, quindi a tutte le tecnologie che noi utilizziamo, anche ad altri, sorpassometri, stiamo sperimentando adesso mezzi per controllare, noi le chiamiamo pese dinamiche, c'è la possibilità di controllare i trasporti pesanti, il trasporto delle merci che passano sopra l'asfalto e che se hanno un peso successivo viene segnalato e quindi poi dopo controllato. Quindi tutte queste tecnologie, ma prendo il tutor come elemento simbolico, perché oggi è quello che ha prodotto i maggiori risultati e in termini di abbassamento della sinistrosità, lei pensi che dove sono montati i tutor, oggi sono oltre 2 mila chilometri delle autostrade italiane, c'è stata una riduzione di oltre il 50%, quindi un tasso ampiamente europeo, oserei dire, e questi tutor ormai sono entrati nella consapevolezza della gente, quando uno legge il pannello a messaggio variabile, perché un altro elemento su cui noi abbiamo puntato è la trasparenza, abbiamo sempre detto noi vogliamo avvertire il cittadino, il cittadino deve sapere che è controllato, non possiamo permetterci agguati, credo che sia un modo scorretto di affrontare il rapporto tra istituzione e cittadino, quindi le tecnologie in senso generale, questa in particolare, ha sicuramente prodotto e sta producendo un cambio culturale, cambio culturale che io auspico e spero e in parte sta realizzando, si trasformi in un cambio di comportamenti. Il codice della strada, è di questi giorni, quindi di estrema attualità, il cambio di molte parti del codice della strada, c'è qualche obiettivo di comunicazione dietro la variazione di qualche norma, l'inasprimento di qualche norma, nel senso che magari il cittadino apprende il singolo dato a cui, tra virgolette, stare attento, però sicuramente ci sarà anche un disegno strategico dietro. Sì, credo che fondamentalmente occorrerà da parte nostra, ma credo da parte di tutti i soggetti che lavorano per il sistema sicurezza stradale, occorrerà fare un grosso sforzo di comunicazione in generale, perché le norme che cambiano sono molte e quindi credo che sia proprio un rapporto di correttezza nei confronti dell'utente spiegargliele, portarlo a conoscenza di che cosa cambia e del perché. Io citerei un caso fondamentale, che è quello dell'abbassamento del tasso alcolemico per i ragazzi. Io credo che aver introdotto ulteriori elementi di inasprimento per quanto riguarda il tasso alcolemico e quindi l'abuso di arco da parte dei giovani, quindi arrivando praticamente a un tasso zero per i primi anni di patente dei giovani sia un elemento molto importante. Oggi i giovani vivono in gruppo, vivono in comunità, la scelta è non di non bere, la scelta è di non far bere quello che li riporta a casa, quello che a turno, il sabato sera o la domenica si accolla l'onere di non bere e portare a casa gli amici sani e salvi. Credo che questo sia un elemento di forte impegno oserei dire civile, quindi le sanzioni, l'asprimento delle sanzioni, l'asprimento della previsione non è un elemento penalizzante per il ragazzo. Credo che su questo versante una forte comunicazione, un coinvolgimento, partendo dai genitori, partendo dalle associazioni dove i ragazzi vivono, il mondo della scuola, possa far comprendere che non si vuole introdurre un elemento di proibizionismo, ma si vuole introdurre un elemento di tutela dei ragazzi. Ormai il sistema gruppale fa parte della vita dei ragazzi, è difficile trovare un ragazzo che va in discoteca da solo, ormai il sistema degli amici, dei pari, è un sistema frequente nei giovani. Allora credo che questo elemento fa capire che uno deve accollarsi un onere a turno, una volta alla settimana, può garantire veramente maggior sicurezza complessivamente, visto purtroppo ancora un numero troppo alti di giovani che in questo paese muore per incidenti stradali. È la prima causa di morte, nel 2007 oltre 1700 ragazzi sono morti per incidenti stradali, credo che sia un costo umano sociale ormai non più sostenibile. Assolutamente.